Tornata grande, stanca dei piazzamenti, vogliosa di tornare a vincere uno scudetto, Trento parte nel modo giusto con i campioni d'Italia di Civitanova in una gara molto equilibrata. La corsa sarà lunga, già giovedì prossimo il match di gara 2 in casa della Lube. Finisce 3-1 per Trento, il migliore in campo come sempre, il capitano Mattei Kazischi. Comunque vedendo i parziali la partita era molto attaccata, comunque si vede che tutte e due squadre meritano il giocatore finale dello scudetto. Sono molto contento perché abbiamo iniziato molto bene, abbiamo difeso la nostra casa e quindi 1-0 per noi. Quanto carica questo pubblico perché veramente si è fatto sentire? Tantissimo, tantissimo a noi giocatori, soprattutto un gruppo giovane come ci vediamo quest'anno, quindi nei momenti decisivi sono stati sempre il nostro settimo giocatore. Giovedì contro Civitanova, tra l'altro la tua squadra ha giocato tantissimi anni con loro, sarà sempre sulla stessa linea questa sfida? Eh sì, dobbiamo dimenticare prima il possibile questa partita, 1-0 per noi però non è niente. Giochiamo contro una squadra con grandissimi campioni che lo sanno vincere, che lo sanno andare fino alla fine e quindi anche se sto adesso con Trento sono vecchuto qua per andare fino alla fine e vincere lo scudetto anche con Trento come ho fatto con tutte le squadre precedenti dove sono stato. Grazie. Grazie.